Il 70% delle aggressioni non sono nemmeno state denunciate, eppure i dati ufficiali dicono che solo nel 2023 i casi di violenza contro medici e personale sanitario sono stati 16.000. L'ultimo in ordine di tempo è accaduto nell'ospedale di Casarano. Ecco perché anche da Lecce, Brindisi e Taranto i camici bianchi hanno voluto essere presenti alla manifestazione nazionale organizzata da Nao Assomed e Cimo Fesmed a Foggia, teatro di tre terribili episodi di violenza nel giro di pochi giorni. Ce lo portiamo a casa il dolore dei pazienti, perché molto spesso facciamo nostri problemi ai pazienti e cerchiamo di risolverli anche impegnando il nostro tempo libero, però ci rendiamo conto che uno dei problemi principali è strutturale, abbiamo una carenza di personale. Quindi il nostro grido serve proprio in questo momento a chiedere per una soluzione del problema, non possiamo militarizzare i pronti soccorsi, dobbiamo aumentare il personale, consentire al personale che è in servizio di avere una qualità di vita, una qualità di lavoro nettamente superiore. Tanti, tantissimi camici bianchi assieme a infermieri e operatori sanitari per dire che così non si è più disposti ad andare avanti. Per quanto ci riguarda o cambiano le condizioni di lavoro o ce ne andiamo tutti dagli ospedali. Il governo è al lavoro per studiare misure urgenti come l'arresto in flagranza anche di ferito. Intanto lunedì 23 in prefettura Bari sarà convocato sul tema il comitato regionale per l'ordine e la sicurezza.